Oggi sono stata dai carabinieri e sono andata a ritirare il dispositivo che si connette con il braccialetto elettronico come è stato previsto dal GJIP. Eccolo il dispositivo che dal pomeriggio Sara ha con sé e che dovrebbe tutelarla dai tentativi di avvicinamento dell'ex. Sara nome di fantasia è la donna trevigiana che nel marzo scorso attraverso una lettera pubblica aveva raccontato la sua storia fatta di violenze e minacce rivolgendosi a magistratura e forze dell'ordine per chiedere una giustizia veloce. Il presunto stalker un quarantene trevigiano che ha precedenti per furti e droga sarebbe arrivato a puntarle un cacciavite addosso ti sciolgo nell'acido una delle tante frasi pronunciate. È rimasto il divieto di avvicinamento a 500 metri, è stato aggiunto appunto il braccialetto elettronico, sono due dispositivi che se si incrociano suonano e si avvia in automatico una telefonata alle forze dell'ordine. In Sara ora convivono emozioni contrastanti e non potrebbe essere altrimenti. Da una parte è comunque una limitazione della libertà personale, però effettivamente serve per una questione di sicurezza, per cui da una parte sono anche più tranquilla adesso sicuramente. Sullo sfondo c'è un episodio recente che non può far abbassare la guardia, anche per questo Sara continua ad avere paura. Mi è stato riferito questo, pare che la persona sia stata riconosciuta e adesso sì, diciamo che ho segnalato anche di dovere e vediamo che cosa succederà. Il 16 maggio l'uomo comparirà davanti al jeep, la speranza della donna è soltanto una. Mi auguro che se arrivi, qualsiasi sia la strada, se arrivi presto a una condanna definitiva insomma.